Questo davvero non dovevate farlo. Sono l'ultima persona alla quale dovevate dare in mano un gioco che simula una botta. Sono ormai diversi mesi che vengo sommerso di richieste per provare questo gioco. E all'inizio ho ignorato il tutto perché non mi sembrava chissà che. Mi sbagliavo. Questa mappa qui la conoscevo di vista, non l'avevo mai provata, ma è diverso tempo che nei commenti dei miei video viene segnalata e plurisegnalata, quindi eccoci qua. Però ragazzi io vi avviso, ciò che vi farò vedere oggi potrebbe essere molto disturbante per tante persone. Quindi decidete bene se guardare questo video oppure no. Avere a che fare con Root Pain non è stato affatto facile. Ci ho messo un sacco, ve lo dico già adesso. Ma anche una volta che sono riuscito ad avviarlo ci è voluto davvero tanto olio di gomito. E oggi non potevo indossare altra maglia per commemorare quello che alla fin fine è un evento, se non quella del fantasmino della disapprovazione. La trovate su Pampling. In questo momento c'è il 5x50 con la spedizione gratis. E come se non fosse abbastanza avrete il mio codice sconto. Gematria, tutto maiuscolo, per uno sconto extra e delle calze gratis. Ora però basta con le chiacchiere. Mandiamo la sigla perché vi voglio portare con me su Root Pain. Innanzitutto trovare la versione che funzioni e che non sia stata ritoccata da qualche smanettone si è rivelata un'impresa meno facile del previsto. Per qualche motivo infatti nel periodo in cui ho provato questa mappa il sito con la versione originale non compariva come primo risultato su Google ma nella seconda pagina, quel postaccio in cui spero non finiate mai. Comunque sia, adesso è tornato tutto a posto. Una volta sul sito mi trovo davanti questo. Nome del file? Rootpain.wad Data di rilascio? 8 luglio 2013 Wad corta, facile Sopportata da Zidum perché GZDum corrompe lo scripting. All'interno del sito trovo anche una breve descrizione della mappa. Si gioca come un parassita all'interno di un mondo simile a un utero e l'obiettivo è distruggere le due ovaie sulla mappa. Una volta che le hai distrutte, riceverai una sorpresa speciale. Ma come farai a distruggerle senza armi? Sta a te scoprirlo. Questa roba ovviamente l'ho letta dopo aver fatto tutto quanto quindi sarebbe stato utile leggerlo prima. Però sto correndo troppo, me ne rendo conto. Perché sto parlando di mappe? Di che cosa stiamo parlando? Ragazzi miei, dovete sapere che il mio videogioco preferito in assoluto è Doom. In particolare Doom 2. Arriva dritto dal 1994 ed è uno di quei videogiochi rimasti nella storia. Nel gioco impersoni un marine senza nome, il Doom Slayer, che dopo essere scappato dall'inferno come unico superstite, torna sulla Terra, ma la ritrova invasa dai demoni. Il gioco consiste nello sparare, far esplodere e distruggere qualsiasi singola cosa si muova. È ovviamente pieno di segreti, tattiche strane ed è disgustosamente malato e difficile e le difficoltà più alte. Se fosse diverso non sarebbe il mio gioco preferito. Detto questo, oltre a questo momento nostalgico, dovete sapere che è più di vent'anni che esiste un mondo sconfinato di custom map di Doom 2. Quindi di mappe fatte dai fan del gioco, mappe personalizzate. Fra le tante mi sento di ricordarvi per esempio quelle di Eric Carrey, su uno dei due shooter della Columbine, ma lì ne abbiamo già parlato in un altro video. Questo gioco penso che sia uno di quelli che ha avuto più problemi con la legge e la politica nel corso della storia. Ma tornando a Root Pain, questa volta è stato tutto diverso. Per intenderci, Doom è un gioco estremamente frenetico, in cui non puoi stare fermo a mezzo secondo, ma questa volta le cose sono state diverse. Oltre a bestemmiare per mezz'ora buona dietro i comandi di Z Doom, mi rendo conto che questo gioco è un dolore per gli occhi costante. Il menu del gioco è davvero strano. Lì per lì non l'ho notato subito, ma dopo averci fatto caso, mi sono accorto che in sottofondo al menu c'era il simbolo di Venere. Da sempre simbolo del genere femminile. Cosa strana, però ho deciso di non farci troppo caso, almeno per il momento. Ora, Z Doom e GZ Doom sono due launcher per Doom 1 e 2, che vengono usati per far partire le mappe personalizzate. Ho deciso quindi di provare a utilizzare prima GZ Doom, semplicemente perché sono più abituato a utilizzarlo e quindi sapevo già come funzionava, era già tutto quanto preparato. Ciò che mi trovo davanti però mi spiazza abbastanza. Sono da solo in una piccola arena collegata ad altri due piccoli spazi, da due corridoi curvi esattamente speculari tra loro. Sullo sfondo si vedono quelle che sembrerebbero essere delle vene o comunque della carne. Intorno a me ci sono anche dei globuli rossi fluttuanti che riempiono l'intero spazio. A differenza di qualsiasi mappa di Doom 2, qui mi rendo conto che c'è qualcosa di strano. Non è una mappa normale, c'è qualcosa che non quadra. Infatti sono disarmato, mai vista una cosa del genere prima. In Doom addirittura gli oggetti sono pericolosi. Che significa che comincio senza armi? Non c'era nemmeno la mano per tirare i pugni quando non hai ancora preso le armi. La cosa mi pareva davvero tanto strana. Alla fine di questi due corridoi, tuttavia, ci sono questi due affari, che però non interagiscono con noi e non si muovono, stanno semplicemente lì senza fare nulla di che. E poi la mente mi è tornata un attimo a quello che avevo intravisto nella descrizione del gioco. In che senso devo scoprire come cavarmela senza le armi? È qui che tutta la mia mania di smanettare con questo gioco è finalmente tornata utile per una volta. All'interno della mappa non sono presenti in alcun modo delle armi o qualsiasi cosa con cui si possa interagire. Quindi è cosa buona e giusta smanettare con le opzioni. Man mano che vado avanti mi rendo conto di una cosa. Nelle opzioni siamo descritti come parassiti. Ma in che senso? Non sapevo nemmeno che potesse essere modificabile quel dato. Ci sono rimasto sinceramente di sasso. Comunque sia, sistemo le opzioni come mi fa comodo e mi preparo quindi a usare un codice che penso di aver usato l'ultima volta dieci anni fa. IDFA è un codice che ti consente di sbloccare tutte le armi nel gioco con tutte le munizioni. Questo include motosega, pistola, mitragliatrice, fucile base a canne mozze, lancia razzi, fucile al plasma e BFG 9000. Oh, se mi sono divertito col BFG 9000 oggi. E una volta ottenute le armi, non potevo non andare a sparare le uniche due cose presenti nella mappa. Qualsiasi cosa fossero. Un urlo sguaiato di una donna. Devo ammettere di essere stato colto di sorpresa, ma comunque sia poco male. In quel momento non ci ho fatto caso. Ci avrei fatto caso poi. Anche se ripensando al simbolo del menù e a tutta la roba che c'era scritta lì, della quale mi sono strasbattuto per tutto il tempo, qualcosina sarebbe dovuto venirmi in mente. Vado a crivellare anche l'altro affare e sento di nuovo un urlo pazzesco. Qui ho iniziato a riflettere un attimo sul dove mi trovassi, perché la struttura mi ricordava qualcosa. Tutto rosso. E vabbè, per Doom è la normalità. Ma globuli rossi in giro, vene ovunque, questi strani affari sui muri simili a dei tentacolini, la struttura nella stanza, le urla di una donna. Mi trovo in un utero. E quelle a cui ho sparato dovevano essere le ovaie. Santo Dio. Qui ho capito il perché di tutto questo disastro all'uscita di questa mappa. Comunque sia, decido di proseguire. Ma tornando nello spazio principale, collegato tra l'altro ad un corridoio con un muro invisibile a bloccarci, e non vi dirò dove porta quel tubo, perché gli erotomani e le poche signorine rimaste a questo punto ci saranno già arrivati. Le due signorine, tutte e due. Continuo a stare lì, a sparare in giro per minuti interi, che diventano venti a un certo punto. E qui mi sono ricordato di un altro particolare nella descrizione. GZ Doom corrompe i file di questa mappa. Io non ho. Si torna su quella monnezzona di Z Doom, e questo fa veramente male alla vista. La grafica è davvero un calcio in tutti e due gli occhi, e si parla di calci veramente potenti. Al centro della stanza, però, questa volta, c'è qualcosa. Sono 4 pixel bianchi e grigi, niente di che. Non ci si può interagire né fare nulla, quindi sono andato avanti. Il gioco, ad essere sinceri, non è molto diverso, anche con Z Doom. Faccio le stesse cose di prima, e questa volta, però, mi permetto di usare l'artiglieria pesante. Qui mi trovo davanti a qualcosa che non mi aspettavo minimamente che potesse succedere. Perché da quella roba esce un... Ve lo faccio vedere. Da quella roba è uscito un feto. Che dire. Si tratta, nonostante tutto, della boss fight della mappa. C'era scritto, è una mappa corta, ma questo non vuol dire che la cosa sia finta qui. Era soltanto iniziata. Infatti, questo affare, oltre a potermi shottare con un singolo tocco, e modeste a parte vi state godendo una boss fight da uno che ci sa giocare abbastanza bene, ma non andava giù. Solitamente, il nemico più forte del gioco, ovvero il Cyberdemon, ha 4.000 punti vita, e con qualche colpo di BFG 9000, o alla peggio, un po' di pazienza con il canne mozze, va giù in maniera abbastanza facile. Questo affare mi ha fatto uscire pazzo per più di mezz'ora, non accennava a rallentare, darei segni di cedimento. Anzi, diventava sempre più difficile. Per carità, ogni arma di Doom 2 ha la propria fisica, il proprio raggio d'azione, i propri angoli, ma non è questo il punto. Sto coso proprio non cedeva. Mi sono arreso quindi dopo 40 minuti di spari interrotti. Il che vuol dire che durante la boss fight, io continuavo, nonostante stessi col joystick, a fare a dire, a mettere con l'altra mano i codici per le munizioni e le armi. Io vi lascio soltanto immaginare che cosa voglia dire a livello di riflessi, fare una cosa del genere. Però, a un certo punto, mi distraigo e mi tocca. Oddio, madonna, le mie orecchie. Decido di ritentare. Questa volta vedo di andarci più di prepotenza, ma il risultato è sempre lo stesso. Decido quindi di smettere di fare la persona retta e corretta, di dimenticarmi che quello che ho davanti è un feto, e di usare le maniere forti. Infatti, esistono ovviamente dei codici, diciamo, dei trucchi, che ti consentono di far morire istantaneamente qualsiasi cosa tu abbia intorno. Ma con questo coso non funzionavano. Ho addirittura pensato che mi si fosse rotta la tastiera, ma tutto il resto funzionava, quindi no. L'unico modo per sbarazzarsi di quell'affare è quindi farlo manualmente. Però c'è qualcosa che non mi convinceva. Sono andato quindi a ficcanasare tra i dati del gioco. E per quanto riguarda il mob, l'unico mob che c'era all'interno della mappa, mi sono venuti i capelli bianchi. Vi ricordo che questo bestione, uno dei boss di Doom 2, ha 4.000 punti vita, ok? E per buttarlo giù servono diversi minuti e anche un certo livello di abilità. Sapete quel coso quanti ne ha? 2 miliardi, 147 milioni, 464 mila, 493 punti vita. Un po' tantini. E facendo un calcolo, per riuscire a buttarlo giù senza morire, ovvio, ci sarebbero volute delle settimane di fila a sparare ininterrottamente, girando costantemente attorno a questo affare, sperando che non mi tocchi. Ovvio, senza considerare che magari il danno potrebbe essere dimezzato, magari annullato nonostante l'animazione, e quindi potrebbe volerci di più. O addirittura potrebbe non essere possibile. C'è qualcuno che tuttavia ci è riuscito e si è visto comparire il messaggio con gratulazioni, hai completato la b***o con successo. Tutto qua, sì, ma non è soltanto questo. Uscendo dal gioco, esce fuori la scritta Long Lives the Unborn. Estremamente disturbante. Il gioco potrebbe essere finito qui, ma no, c'è dell'altro. Analizzando il nome del gioco, Root Pain, con due ricerche si finisce a capire che si tratta dell'irritazione della radice di un dente, ma questo non vuol dire nulla, ovviamente. Quello che bisogna fare in questo caso è prendere la parola Root Pain e girare la P di 180 gradi. In questo modo diventa Root Bane, che se è una grammata diventa A-B-A-N. Quanto tempo libero devi avere per mettere su una cosa del genere? E tornando anche ad un altro parametro, ovvero ai punti vita del boss, ci si rende conto di un'altra cosa. Andando a sostituire ogni cifra con la lettera corrispondente nell'alfabeto, si ottiene la parola A-B-A-N anche qui. Gli sprite, invece, compresi quello di lo sviluppo dell'embrione nel gioco, sono presi da un libro chiamato Kyoto Embryo Collection. In particolare il feto usato per lo sprite è quello che va dai 56 ai 60 giorni di gestazione. Quando invece sono andato a inserire il codice per ottenere le armi, è uscita fuori una scritta molto particolare. Non avevo idea di che cosa fosse, sarò sincero. Cercando, però, mi si è agghiacciato il sangue. Vi ricordate che all'interno delle impostazioni eravamo noti come parassiti? Ecco, vi spiego che cos'è quella roba che abbiamo aggiunto prendendo le armi. Il Mifepristone è uno steroide sintetico utilizzato come farmaco per l'abboto chimico nei primi due mesi della gravidanza. Questa mappa, quindi, è basata su un abboto volontario. Essendo quindi l'embrione tra i 56 ai 60 giorni è il momento peggiore per fare una cosa del genere. Gli urli atroci della donna, tra l'altro, sono stati inseriti perché questa sostanza causa dei dolori lancinanti in chi ne fa uso. E questo era tutto ciò che c'era da sapere sulla mappa. Andiamo a parlare un attimo, però, del suo autore, un certo Zygo. Il boss della mappa, tra l'altro, si chiama come lui. Questo ha fatto nascere diverse leggende sul fatto che Zygo fosse una persona estremamente depressa che ha creato questa mappa come ultimo modo di comunicare per poi sparire completamente. Ah, il nome Zygo deriva da Zigote, però penso che fosse ovvio. C'è anche la leggenda che abbia creato questa mappa per vendicarsi del fatto di aver scoperto che i suoi genitori volessero dopo averla postata è stato bannato ovunque tantissime volte, appunto perché questa mappa ha causato un terremoto vero e proprio nella community di Doom. Il post era letteralmente solo un allegato, senza informazioni aggiuntive, lasciando ai giocatori lo scoprire di che cosa si trattasse. Da lì in poi Zygo è stato bannato da qualsiasi forum senza ragioni apparenti, anche se la ragione era quella dell'essere il creatore di RootPain. Ma basta andare a vedere nei messaggi più recenti, in particolar modo su Discord, nei quali ammette candidamente di non essere depresso, di non avere problemi di alcun tipo, ma di essere solo un troll annoiato che voleva stuzzicare le persone. Ora si fa chiamare Hermin. E c'è da dire che c'è riuscito alla grande, RootPain è un'esperienza che ti dimentichi difficilmente. A questo punto comunque sia tutto ciò che c'era da sapere su RootPain.wod ve l'ho detto. Personalmente non è che mi abbia scioccato più di tanto, anche se è stato davvero strano provarla. Il mondo delle Woot di Doom è estremamente controverso, ci sono tante cose che vorrei raccontarvi e che onestamente non ho ancora provato direttamente. Se vi fa piacere possiamo rifarlo altre volte. La puntata di Sottobosco di oggi può anche finire qui. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Qui sotto in descrizione trovate tutto ciò che può esservi utile come Pumpling, Discord, Telegram, TikTok, Instagram, tutto quanto. A questo punto io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Sottobosco 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 Sottobosco